Nel regno di Max Verstappen III il sole non tramonta. Nemmeno nella notte Catarius, l'olandese volante, seduto nella sua fedele Red Bull, ha dovuto aspettare il tredicesimo round della gara di sprint vinto dal talentuoso pilota McLaren. Oscar Plastri per avere la certezza matematica del restante campione del mondo. Per il terzo anno consecutivo. Aveva bisogno tre punti. Ha portato via il pensiero in seguirli il suo compagno squadra Sergio Perez. Che è finito nella ghiaia in uno scioccante con gli ass Nico Welkenberg e l'alpino Esteban Ocon. Finalmente. Campione. Mad Max. Tuttavia. Non sono stati soddisfatti. Ha combattuto per salire sul podio. Fino a quando non si siede sul secondo passo. Ma solo per mancanza di chilometri. È probabile che il massimo insaziabile andrebbe a caccia di vittoria. Un altro McLaren. Quello guidato da Lando Norris. A 26 anni Verstappen accade a se stesso con sei gare in anticipo. Poiché era riuscito solo a Schumacher nel 2002. Sempre veloce. Veloce maestro di una Red Bull come docile. Con lui come spesso rivelava scontroso con Perez. Occupò il capo campionato del mondo per tutti i GPS 2023. Non accadeva dal 2015. Quando Lewis Hamilton e Mercedes hanno dominato. Uno dei suoi record tra i tanti. All'inizio di settembre ha dominato il GP d'Italia. Un decimo consecutivo. Che ha superato Sebastian Vettel che nel 2013 si era fermato alle 9. È sensazione fantastica. Abbiamo giocato stagione incredibile. Sono orgoglioso far parte questa. Squadra le prime parole Max Terzo oggi è stata divertente. Anche con molte autosicurezza. Essere tre volte il campione del mondo è semplicemente. Incredibile. Fletri? Hai fatto grande gara. Pensavo essere andato a prenderlo. Ma non ci sono riuscito. Altri titoli? Ora mi piace il momento. È stata gara stressante ha commentato. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Nintene curve di filatura. Intervallate da tre auto di sicurezza vivevano in anonimato da Ferrari. Sesto e settimo al traguardo con Carlos Sain Charles Leclerc. Il Monegasque è stato quindi penalizzato da 5-4 violazioni limite traccia. precipitando al tredicesimo posto. Un brutto segnale in vista domani soprattutto nella chiave. Classificazione. La Mercedes ha sfruttato la squadra Maranello. Più in generale. Sull'asfalto scivoloso lo Nile. Era un mini gara difficile per tutti quei conducenti che. Come due Ferrabol. avevano scelto andarsene con Morbide. Non è un caso che i primi tre avessero montato gomme composto. Medio. In the stop vai costretti alle uscite della pista davanti Lawson. Poi Sargent infine Perez dei suoi compagni. Morbide hanno perso rapidamente l'efficienza. Ha fatto i costi. ad esempio. George Russell. Ha il primo posto. Tranne essere passato da plastri a 11a. Tuttavia. Riuscendo chiudere il quarto precedente Hamilton.